Pronto? Ora mi senti? Alla grande, sì, sì. Allora, io volevo chiederle una... Presidente, in Germania, in tutti i paesi civilizzati si usa un nuovo, un nuovissimo, proprio all'avanguardia o meno all'avanguardia di modo per pulire le case della gente per pulire le polizie, no? Non so se pure Rai ha sentito questo foto che è veramente grandissimo, superiore, enorme insomma, sbaraglia tutti i paesi, compresa l'Italia No, bisogna vedere questo prodotto. Cos'è? Un prodotto o un macchinario? No, ma che... ma che... ma è un modo teoricamente semplice però non lo so, tipo... mi sembra che in Europa gli manchino ancora... avevo visto proprio l'altro giorno l'Italia... l'Italia, Spagna e Grecia perché noi stiamo sempre qui in Grecia capito? Eh... eh... Sì... Sì, noi siamo per prodotti normali se no tutto guardiamo a mano la buona spazzola eh... non è che siamo una ditta grossa eh? No, vabbè, ma siamo sulla buona strada diciamo vedete il nuovo metodo mmm... ma lei... lei la si è aggiornato? Si è aggiornato? Cioè, è il suo lavoro? Lo dovrebbe sapere? No? Sì, vabbè, io... ma... Io non so di cosa... che cosa devo parlare devo mandare nei mail? No! Mi vuole incontrare? Non so cosa vuole io spiego io il nuovo metodo poi se riuscite a accontentare il cliente io sono contento voi pure perchè... insomma, il nuovo metodo consiste nel fare le pulizie a casa sempre bene cercando di pulire al massimo, al meglio la casa però... le persone che puliscono la casa le signore ovviamente devono essere nude Ah, ho capito Ah, ho capito Hai capito? Eh, sì, sì, ho capito quindi se scopa due volte no, 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 no eh non si ride su... è... è un uomo... no, uno lo fa poi non è che fa niente loro arrivano e fanno il lavoro come... come niente fosse normale arrivano col gremiolino Sì, ascolti la cosa No, ma io non ho tempo a prendere queste cazzate ow oow oow oow, ma avete i termini? Eh, no, ma che termini? Scusate, io ti dico per me sono cazzate, se per me sono corretene io proteste Ma si fa per formare! Eh? E poi si permette pure di darmi del tuo oow, 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 come si permette, COME SI PERMETTE e riremovie